Ciao a tutti, questa proposta di legge si pone lo scopo di normare il mercato dei buoni pasto. Cosa sono i buoni pasto? I buoni pasto sono quei buoni che le aziende che non hanno un servizio di mensa danno ai loro dipendenti in modo che questi possono andare a consumare il pranzo presso degli esercizi commerciali, dei ristoranti, dei bar convenzionati. Questo servizio è nato molti anni fa ed è aumentato tantissimo negli anni. Arriva addirittura a 3 miliardi di euro il mercato dei buoni pasto. Ci sono 2 milioni di dipendenti che usufruiscono di buoni pasto, circa 100 mila gli esercizi convenzionati. Il problema è che come è cresciuto questo business sono anche cresciuti gli interessi economici delle società emettetrici che pur di accappararsi l'appalto rispetto alle grandi aziende pubbliche e private fanno a queste aziende fortissimi sconti sulla commissione, quindi rispetto al valore nominale del buono ma si rifanno poi sulla parte più debole della filiera, ovvero sui ristoratori, sugli esercenti prendendo a loro commissioni molto elevate e facendo pagamenti molto lunghi. In pratica se arriva un bar, un ristorante, arriva a vedere pagata la fattura di buoni pasto anche spesso, anche oltre 90 giorni di tempo da quando emette la fattura e ad avere commissioni addirittura oltre il 15%, cioè una vera e propria tassa. I bar e i ristoranti non ce la fanno più a sopportare anche questo onere rispetto a tutti gli altri. Per questo noi abbiamo fatto insieme agli esercenti, insieme ai ristoratori e anche con il consulto dell'associazione di categoria questa proposta di legge che si pone il semplice scopo di normare il mercato di buoni pasto e lo facciamo in maniera molto semplice, stabilendo un tetto alle commissioni che le società emettitrici possono rifarsi sugli esercenti. Le commissioni possono essere al massimo del 4% per pagamenti che vanno non oltre i 60 giorni e al massimo del 6% per pagamenti che vanno non oltre i 30 giorni. Queste commissioni sono omnicomprensive perché molto spesso le società emettitrici aggiungono altri oneri e accessori oltre la commissione mentre invece noi stabiliamo che il limite massimo sia del 4-6% in totale. Stabiliamo inoltre che si stabilisca un tavolo tra le società emettitrici e le grandi associazioni di categoria, quelle più rappresentative degli esercenti in modo da accordarsi su qual è il modo migliore per utilizzare questi buoni pasto e infine stabiliamo un limite all'accumulabilità per ridare ai buoni pasto un po' quello che era il loro scopo originario quindi non quello di andare a fare la spesa al supermercato magari anche prendendo cose non alimentari e quindi stabiliamo che siano cumulabili al massimo buoni pasto per al massimo 21 euro quindi 3 buoni pasto dal valore di 7 euro in questo modo si riporta l'utilizzo a quello che era originario del buono pasto ovvero quello di essere un sostituto della mensa. Abbiamo, come vi ho detto, lavorato questa proposta insieme a quelli che sono i soggetti direttamente interessati ma speriamo che anche voi vogliate darci un contributo per migliorarla ancora. Grazie.